Benvenuti oltre lo stadio, oggi con Domenico Marocchino facciamo un viaggio all'indietro in una carriera di un grande campione che ci ha lasciato da poco e allora intanto benvenuto Domenico. Grazie dell'invito. Parliamo di Totò Schillaci, un giocatore che ha segnato soprattutto una trentina di giorni nell'estate del 1990 che sono rimasti nella memoria collettiva di tutti, le notti magiche, i mondiali d'Italia 90, tanti giocatori riescono attraverso una carriera a Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, Platini a essere ricordati, a suo modo Totò Schillaci forse non essendo un campionissimo è ancora nella memoria di tutti perché in quell'estate lui fu protagonista assoluto di quel mondiale italiano, sfortunato per l'Italia perché ha rivolto il suo posto, ma comunque ha ricordato da tutti. Innanzitutto, anche se non sei un fuori classe, buchi il video come si dice televisivamente, nel senso che la tua personalità, quello che fai, a prescindere che può essere anche non eccelso, rimane nella mente delle persone che ti guardano, lui c'era, aveva anche il viso, aveva un viso particolare, uno sguardo particolare, quando uno pensa a Totò Schillaci a volte pensa a questo sguardo un po' così vitreo, un po' che fissava, un po' forsennato e che era poi la caratteristica del suo modo di giocare, capito? Tutto a Schillaci rimarrà per sempre legato all'estate del 1990, un momento anche di felicità del paese. Per qualcuno. È limitativo dire una cosa di questo genere, scuso, mi sentivo interrotto, perché tutti fermi o ci si ferma solo per quel torneo per il Mondiale, però lui ha fatto anche degli ottimi campionati nella Juventus, ha giocato bene prima nel Messina, ha giocato bene anche un anno nell'Inter. Lì è stata la punta di diamante, però lui aveva determinate caratteristiche che gli hanno permesso, arrivando da una società di provincia, dalla Serie B, di affermarsi in una squadra come la Juventus, insieme a Baggio, insieme a altri grandi giocatori, quindi non era solo, non ha brillato solo, lì è stato il culmine. Lì è stato il culmine. Che attaccante era Schillaci, Domenico? Era una via di mezzo tra Anastasi e Paolo Rossi. C'era un centravanti brevilineo, quindi rapido nel movimento, faceva il gol della paura, cioè quando hai paura dai un pugno o tiri in porta, lui riusciva a fare dei gol per quello che aveva preso sul tifoso, perché faceva quel gol, oddio sono qua, devo prendere quello, poi quando hai una fame e buona vai in un posto, sai che ci sono gli altri davanti e devi mangiare per forza un panino, infili una mano e lo porti via e ti mangi il panino. Lui aveva questa rabbia, questa rabbia abbinata ovviamente alle capacità tecniche e tattiche, perché non basta, solo la rabbia. Questo viaggio che facciamo parte però dalla fine. Nieto Toschi-Laci si è spento a Palermo il 18 settembre del 2024. La sua seconda vita dopo aver lasciato il calcio era quella di essere dedicato, di dedicarsi ai giovani con un centro sportivo in cui aveva fatto appunto crescere tanti ragazzi. E sempre lo sport al centro della sua vita, addirittura poi anche il mondo dello spettacolo, aveva partecipato a Pechino Express pochi mesi prima che la situazione si aggravasse. Queste le tantissime persone che hanno voluto rendergli un attributo, un saluto alla Camera Ardente, migliaia di persone che gli hanno reso maggio a Palermo, una coda lunghissima, una Camera Ardente allo stadio Renzo Barbera, tanti amici, tanti tifosi, tante personalità del mondo del calcio, tante persone che hanno giocato anche con lui a Messina e in piazze più importanti. Sì, su di lui fa anche effetto, si prende in considerazione il fatto che sia arrivato dalla gavetta, che vuol dire molto, dalla gavetta del sud, che vuol dire molto anche quello. Quindi in un ambiente come Palermo, in un contesto un po' particolare, lui è riuscito ad affermarsi, è riuscito a rappresentare una parte molto bella della Sicilia, della città di Palermo. Quindi anche quello ha avuto tanto la sua importanza. E quindi anche i cori dei tifosi davanti alla cattedrale, lui era nato a Palermo il primo novembre del 64. Poi, ti interroppo che non mi piace la scaletta, riguardo il fatto dopo dei giocatori, del settore dei giochi, c'è chi gioca a calcio che è un amore, perché se uno lo pratica è una cosa che ti fa innamorare, giocare, è una passione tremenda, dopo quando smetti può diventare amicizia o indifferenza, può proseguire come amore, può diventare amicizia e può diventare indifferenza. Lui questo amore per il calcio si è proseguito mantenendo questo amore, amore e amicizia, ecco questo passaggio qua. C'è della gente invece che ha smesso di giocare, del calcio non ne frega più niente, in quel caso lì è proprio niente insomma. Sentiamo il ricordo della figlia, Nicole, il contributo numero 6, proprio pochi giorni dopo la sua scomparsa. In questo momento penso solamente, appunto che mio papà mi manca tantissimo e sono contenta da una parte anche perché io in queste settimane ho potuto vivere con lui comunque gli ultimi giorni e da una parte ho visto quanto ha sofferto, ho visto comunque quello che ha passato e posso solamente dire che in questo momento sono contenta perché non soffre più, però mi mancherà tanto, rimarrà sempre il mio cuore anche se l'ho vissuto poco comunque perché avrei voluto comunque condividere altri momenti con lui e purtroppo non ne avrò modo. Quindi sto cercando di affrontare la cosa in maniera, pensando più a lui in questo momento che a me. Sentiamo anche un passaggio dell'Omelia di Don Filippo Sarulo, il parroco della chiesa della cattedrale di Palermo. Grazie. Dicevamo Domenico di Totò Schilaci che è stato anche uno dei primi calciatori ad avere il coraggio poi di andare all'estero perché stiamo facendo un viaggio a ritroso e allora iniziamo dalla fine della sua carriera, che è questa esperienza in Giappone, decise di trasferirsi dopo una stagione sfortunata con l'Inter di Bagnoli e fu un precursore poi. Certo, questo dimostra comunque l'intelligenza di una persona perché lui ha intuito che il calcio potesse, i giocatori italiani potessero emigrare, tra virgolette, anche molto distante e l'ha messo in pratica. E' comunque uno che ha osato, uno che si è sempre in posto, perché tu arrivi dal Messina e prendi il posto da titolare nella Juventus, non è come dirlo, non è una cosa completamente facile da ottenere. Invece lui era uno che comunque c'era, non si specchiava, voleva sempre stare in movimento e sempre a passo coi tempi. Vorrei soffermarmi anche sull'intervista della figlia di Nicole, che è stata molto carina, molto sensibile, sul rapporto figli con genitori sportivi, che è sempre una situazione di non facile gestione, perché lo sportivo deve, come molti altri, mica solo lo sportivo, ma è costretto purtroppo a sacrificare un pochettino la vita relazionale con i propri figli, perché le trasferte, i ritiri, i viaggi, le cose di questo genere, l'ambiente stesso che ti porta a vivere la società in un modo completamente diverso e quindi non è mai facile trovare un giusto coordinamento. Nicola è stata molto tenera. È una bella intervista, certamente. Dicevamo, la sua esperienza in Giappone, 83 presenze e 58 gol. Sfortunato negli anni interisti, erano gli anni di Bergkamp, Jonka, Rubensosa e qualche difficoltà. Viene ricordato soprattutto per la Juventus, però, come esperienza. Anche lì una buona stagione con Zoff e Maifredi, quindi due personaggi completamente diversi, agli antipodi in cui lui comunque alla Juventus fece registrare dei numeri positivi. Sì, perché lui era comunque anche un rappinatore d'aria, oltre a essere un punto di riferimento per i compagni che lo trovavano, lui aveva questo, quello che ti ho detto prima del panino che rubi quando hai fame e ci sono gli altri che sono già lì davanti a te, in termine positivo lo dico. Il calciatore deve anche essere uno bravo a fregare il difensore, sempre virgolettato quello che sto dicendo. Lui aveva queste caratteristiche, glielo permetteva la sua determinazione, glielo permetteva la sua velocità di base. Sai, lui è uno che ha fatto anche tante gavette, perché è Messina, con il mio amico Franco Scoglio, che aveva intuito le sue potenzialità. Non dico che si è trasferito nel continente, però sai giocare in Sicilia, poi trovarsi a Torino, è sempre un passaggio non facile da superare. Ci fermiamo, un minuto e mezzo dopo la pubblicità ovviamente andiamo sulle notti magiche. Al Mondiale d'Italia 90 Totò Schillaci non avrebbe nemmeno dovuto andarci. Fu scelto all'ultimo da Zeglio Vicini, il commissario tecnico. Serviva poco all'idea di calcio spumentare, sconemeggiante dell'Italia che aveva Vicini, perché c'erano Mancini, Vialli, Giannini, tanti giocatori di qualità. A spingere Totò Schillaci fu il capodelegazione azzurro, Boniperti. A casa rimane Luca Fusi, che è centrocampista classe 63, mediano, dei Napoli di Maradona, aveva ben figurato anche con la Samp e quindi l'Italia si presenta al Mondiale con un attacco favoloso. Vialli, Baggio, Mancini, Schillaci sembra una sorta di comprimario. Però aveva alcune caratteristiche importanti. Sirena Carnevale, mi sono dimenticato. Aveva, come ho detto prima, delle caratteristiche importanti, aveva questa rapidità, questa rapacità dentro l'area. In certi contesti abbreviava il gioco della squadra, perché non doveva costruire tanto, fare determinate azioni, perché lui quando c'era una palla che arrivava lì, e poi era anche uno che osava, se c'era a tirare in porta, era anche in una situazione non completamente favorevole, lui aveva fame di buttare la palla dentro la porta. E allora andiamo a vedere quel Mondiale. È una nazionale che sa di poterlo vincere, questo titolo. C'è grande attesa in tutta Italia, abbiamo anche le immagini della squadra con il Presidente Cossiga. È un Mondiale che si apre a Milano, si apre in una stagione, si apre con una prima partita, con una prima clamorosa partita, perché a San Siro c'è Camerun Argentina, l'Argentina campione di Maradona, dell'86 sfida il Camerun, che a sorpresa batte l'Argentina. È una grande sorpresa perché nessuno si aspettava e perché dà anche l'idea di un calcio africano, di Roger Miglia, di un calcio africano che si va sviluppando e poi sarà un po' la sorpresa di questo Mondiale. Il Mondiale di Totò Schillaci inizia al minuto 75 l'Italia-Austria, partita d'esordio degli azzurri. All'Olimpico di Roma l'Italia è bloccata sullo 0-0 contro l'Austria, squadra solida che concede poco. Pochi secondi dopo, può essere entrato al posto di Andrea Carnevale, che aveva sbagliato un paio di occasioni, ecco l'occasione della vita, la prima per Totò Schillaci, che su un cross di Luca Vialli mette dentro la palla dell'1-0 e regala tanta tranquillità agli azzurri perché iniziare il Mondiale con una vittoria in casa, devo dire, è un buon inizio. Direi di sì, ti sei fatto già la risposta, sicuramente, però ha concretizzato in 10 minuti e in un quarto d'ora, lui era un giocatore che non aveva bisogno di un certo tipo di preparazione, di un certo tipo di gioco, era a sé, un giocatore a sé, quindi lo potevi sfruttare anche solamente così. C'era, sapevi che avevi questa cartuccia e la potevi giocare nel breve tempo o in 90 minuti. Schillaci parte dalla panchina anche nella seconda partita contro gli Stati Uniti, qui deciderà un gol di Giannini al dodicesimo e anche qui sostituisce Carnevale all'inizio del secondo tempo. A qualificazione ottenuta invece sarà protagonista della terza sfida con una marcatura al nono minuto, bisserà poi Roby Baggio al settantottesimo. Insomma, è un'Italia che vola agli ottavi di finale e è una grande favorita. Trova l'Uruguay, una partita ostica, in panchina c'è Tabarez, giovane tecnico che poi avrà tutta una carriera anche italiana. Ed è proprio Schillaci che rompe l'equilibrio segnando il gol del vantaggio al sessantaseiesimo a cui seguirà la rete di Serena. Tu cosa ricordi di quegli ottavi, di quei quarti, di quel periodo? Ricordo la tensione, come hai detto te, quando si gioca in casa hai più da perdere, puoi avere dei vantaggi ovviamente perché è il pubblico favorevole, però sei più nudo da un certo punto di vista. Quindi questa tensione di queste partite, quindi mi ricordo che siccome avevo già intuito, io non sono come Enzo Gambaro che penso di essere il più grande intenditore dell'universo, però avevo intuito che questo giocatore aveva quello zik in più che avrebbe potuto essere utile per i suoi compagni e per la squadra. E poi una cosa che è continuata, lui è rimasto anche sempre legato calcisticamente come amicizia a Roberto Baggio e non sempre poi continuano queste amicizie. Giocare con Baggio era facile ma dovevi anche muoverti in un determinato modo. L'Italia passa i quarti di finale, anche qui la firma di Schillaci. 1-0 e gol al 38esimo contro una squadra ostica, l'Irlanda di Charlton. Da qui si apre il capitolo semifinale, questa partita storica contro l'Argentina. Una partita in cui sarà decisivo quell'errore di Zenga, Domenico? Sì, sarà decisivo, però ripeto, era una grande Argentina che poi ha perso la finale mi pare ai rigori o con un gol su rigore? Perse la finale con un rigore a 5 minuti dalla fine. Dalla fine, quindi giocare contro questa Argentina non era facile perché pur essendo una squadra con tanti talenti davanti era bravissima a difendersi. Quindi secondo me incontrarla non è stata un vantaggio anche perché poi Maradona, giocava a San Paolo, la rivalità, il fatto che lo stadio... Era un po' in crisi su chi ti fa. Era un po' lunare questa situazione di queste partite. Schillaci è ancora decisivo, porta in vantaggio l'Italia al 17esimo, tappini in aria, tutto fa presagire una vittoria. C'è però quell'errore che porta l'Italia ai calci di rigore. Qualche mese fa Schillaci dichiarò, non me la sono sentita di calciare uno dei 5 rigori. Sai il rigore è una cosa strettamente personale perché è un gesto che non puoi allenare facilmente perché la componente psicologica è importante. Quindi se non te la senti, non te la senti. Perché le sensazioni che provi quando è decisiva non le provi quando le provi in allenamento. Poi ovviamente ci sono degli specialisti che se ne fregono. Teniamo presente che ha sbagliato il rigore mondiale, negli europei, Platinila, ha sbagliato Baradona stesso, Baggio in Brasile, Baresi in Brasile. Alcuni giocatori grandissimi hanno sbagliato dei rigori importanti. Schillaci c'è questa curiosità che però si dichiarerà pentito di non essere andato sul dischetto in quella lotteria finale. Per lui ci sarà comunque il titolo di capo cannoniere, grazie al rigore nella finale terzo-quarto posto con l'Inghilterra. Contributo numero 15, lo rivediamo perché è appunto l'immagine di Schillaci con l'Argentina, che è un gol dei suoi, un gol anche un po' fortunato, però è proprio un attaccante che sa essere lì. Un gesto alla mennea. Un gesto sì sì che sa essere lì. Da corridore alla mennea, se ci pensi, da ragazzo del sud, se ci pensi, è vero? Sì sì, forse incarnava anche appunto la forza, anche la voglia di riscatto e la velocità. Il Mondiale comunque l'Argentina lo perderà in finale perché come dicevamo prima, a cinque minuti dalla fine decide un rigore dubbio, molto dubbio, un fallo di Nestor Sensini. Sul dischetto ci va Andy Breme con tributo 16. Non dà scampo a Sergio Goigocea che era stato un po' il portiere eroe del torneo e questo è il rigore decisivo nella finale dell'Olimpico all'angolino imparabile e in un momento storico la Germania che pochi mesi dopo si sarebbe riunita. Forse era una Germania anche molto la squadra che meritava di più, Matteo Sbreme, Klisman. Sì, la Germania aveva una… ma sai, nelle valutazioni del valore di un singolo o di un club o di una squadra devi valutare anche le concorrenze. Tu puoi essere bravino ma passare per bravissimo se hai poca concorrenza. Invece ci sono dei periodi sia come singolo che come squadra ci sono delle concorrenze notevoli. Può Federer-Nadal come peristi. È così la storia. Si sbatte contro un avversario però questo avversario ti pesa anche, ti dà il tuo valore. Ci sono stati dei periodi dove c'era una stragrande maggioranza di talenti. Pensiamo alla nazionale di 15 anni fa. Come trequartista c'era Baggio, Totti, Del Piero, Zola, Mancini. Adesso non abbiamo neanche uno e mezzo o uno di questi qua. Anche se poi il calcio delle volte fa sì che vinca anche una squadra perché non ha talenti però è più compatta. Quello è stato un mondiale dove le squadre, Germania, Argentina e Italia. La quarta era? Inghilterra. Grande Inghilterra di Gascogne, Linaker, David Platt. Quattro nazionale insomma. Non hanno vinto il mondiale gli azzurri però lo sguardo di Totò Schillacci dicevamo resterà per sempre nei ricordi. Notti magiche che cementeranno anche un legame tra giocatori di quella nazionale. Totò Schillacci rimarrà per sempre il protagonista è assoluto di quella stagione. E allora concludiamo questa puntata di Oltre lo Stadio, la concludiamo con un'intervista con il ricordo di Beppe Bergomi, storica bandiera dell'Inter che di quella nazionale di Italia 90 era il capitano. Io sono capitano di quella nazionale dove lui è stato il nostro eroe, veramente quello che ci ha portato in alto e quel gol contro l'Austria non lo dimenticherò mai perché è stato il primo di una lunga serie ma quella sua esultanza, quell'abbraccio che abbiamo avuto insieme lo porto nel cuore. Ma poi perché mi piace sottolineare il lato umano della persona, per me era un animo buono, era un compagno importante. Poi sono quelle persone, non so come faccio a farvi spiegare, che anche se non vedi dopo tanto tempo, io l'ho rivisto dopo tanti anni a Torino, a partita della Juventus, considero lì per commentarla lui col figlio, percepisci che c'è del profondo dentro, quel senso di appartenenza e quella stima reciproca. Quindi è stato un esempio per tutti noi, ci mancherà tanto. E con questo bel ricordo di Beppe Bergomi chiudiamo la nostra... Sarà con il suo primo allenatore Franco Scoglio a parlare di calcio. Me li immagino, tutti e due siciliani e uno di Lipari che parleranno di calcio, tutti e due molto simpatici e molto personaggi. Una bella immagine con cui ricordarli, grazie Domenico Marocchino. Grazie a te. E grazie a voi per aver seguito Oltre lo Stadio.